Lascio per la prima volta il mio paese per un progetto ambizioso. Sono le prime parole di Gigi Buffon, che è ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Dopo aver salutato a fine stagione la sua Juventus, il tiro della nazionale a 40 anni si rimette in gioco. Superate le visite mediche, la firma con il club francese. Per Buffon un anno di contratto per ora e un ingaggio di 4 milioni netti. Per Nasser Al-Khelaif, presidente del club, l'ex numero uno bianconero, rappresenta uno dei giocatori più stimati del calcio mondiale. La presentazione ufficiale fosse già lunedì alla presenza della stampa dei suoi vecchi e nuovi fan.